La macchina di Michael Knight Ciao Domenico, raccontaci qualcosa di questa meraviglia Questa meraviglia l'ho rubata a Michael Knight e sono venuto qui in Italia No scherzo, noi abbiamo replicato questa macchina come tanti altri hanno fatto già in Italia Organizziamo matrimoni, manifestazioni, eventi e spettacoli Siamo qua a questa manifestazione per farci un po' di pubblicità E cercare un po' di vedere di garantire l'evento che è già bello di suo Ma tu senti una curiosità, ma tu conversi con questa macchina? Cioè ci fai delle chiacchierate proprio? Sì, 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 io ci parlo, anzi a volte parla è pure troppo Beh, insomma è una macchina Quindi in realtà però ha la voce da uomo Però essendo una macchina è una cosa femminile Quindi si sa che poi noi parliamo troppo effettivamente Ma senti, ma ti capita anche di litigare con la macchina? Sempre praticamente, sempre Anche perché quando c'è un po' troppo rumore non mi ascolta benissimo E quindi fa un po' rumore lui Lui perché ha sido della donna si arrabbia Si arrabbia, giustamente Grazie mille Domenico e grazie ovviamente per aver portato qua questa meraviglia Che ci ricorda insomma agli anni quando eravamo un pochino più piccoli Che guardavamo appunto Supercar in televisione al pomeriggio dopo la scuola Grazie a voi, grazie mille a voi Come stai? Tutto bene? Tutto funziona perfettamente Grazie per l'interessamento Ma c'è una mia ricorda anche questa Grazie a tutti